Voglio far vedere come funziona Classroom quando io ho postato un compito e gli studenti consegnano il compito Vedete che qui abbiamo questo compito di geografia sull'Unione Europea Ho messo dei materiali, ogni studente riceve una copia di questi materiali E in questi ci sono file che loro possono scrivere Quindi file in cui loro possono svolgere il compito E qui ho chi ha completato e chi non ha completato Se vado a cliccare sui completati ho proprio tutti i file degli studenti che hanno completato il compito E una volta che io ho visionato i file posso anche inserire un voto Nel momento in cui inserisco il voto qui viene flegata l'opzione del compito eseguito E posso poi restituirli Quindi alla loro casella di posta elettronica verrà segnalato che io ho visto il loro compito E questo l'ho anche valutato e posso ovviamente anche inserire dei commenti Per esempio apro questo compito Qui sono le domande E qui ci sono le risposte Allora io posso valutare la completezza della risposta La ricchezza, la laconicità In questo caso scelgo di mettere un voto come può essere 8 Vedete che viene flegata la casella del compito corretto Non è ancora stato restituito chiaramente Mentre guardo e correggo Posso aggiungere come informazione Che quando Se io vado sul drive e controllo nelle cartelle di classroom Noterò che esistono delle cartelle Con il nome del compito dato Quindi avrò una cartella con questo nome E in ogni cartella del compito Tante cartelle quanti sono gli studenti che hanno risposto Quindi avrò già archiviato in modo ordinato Tutti i lavori degli studenti automaticamente sul drive Ok Vediamo Altri compiti Altri compiti Dopo questo lo taglio tutto Qui non ho visto il compito Quindi non mi metto nessun voto Può capitare che appunto Magari io non riesco a aprire il file Che loro hanno allegato Allora a quel punto Posso non mettere la valutazione Sospenderla Come nel caso di questi due alunni Per il resto Restituisco Ecco fatto Uno strumento abbastanza potente Per la documentazione del lavoro E che consente ai ragazzi di lavorare Rapidamente E di mandare immediatamente Al docente quanto svolto E al docente di correggerlo Altrettanto comodamente E al docente di correggerlo E al docente di corregge